una donna 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 i microfoni attaccati asso asso allora ragazzi allora alzami un forno va bene così allora ci siamo ci siamo ci siamo vediamo 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 il tavolo si vede tutto si il tavolo si il tavolo no va bene non serve l'effetto non serve l'effetto quindi io sto posizionando la telecamera perché si vede tutto il tavolo minuto per minuto allora io ci sono buongiorno a tutti a tutti belli e tutti sono tutto sul tavolo non lo portatemi allora scusate scusate portatemi Siamo in live, siamo tra i live, tra i numero uno dei due minuti, e i numero uno, e lì chiede, sei qui il bicchere? Facciamo un applauso a bicchere, che è la dimostrazione di quanto l'unico vuole essere giù, e un altro sanno, e un altro sanno, e un altro sanno, e un altro sanno, e un altro sanno. Quindi, io vi ringrazio, però visto che siamo in live, io vi ringrazio il bicchere, e poi ho fatto un bicchere, abbiamo fatto un bicchere, abbiamo fatto un bicchere, abbiamo fatto un bicchere, ci ringraziamo tantissimo. Poi, sono solo casano, e non è che il bicchere, perché se no, andate in là ragazzi, andate in là, 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 andate in là. Allora, salvatore Casano, facciamo un applauso per i ragazzi, allora, andate in là, 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 andate in là. No, andate in là, 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 andate in là Poi, poi, attenzione, c'è una sorpresa che non dovrà venire il mio prossimo maletto, ma c'è Stefano Limentigato, che ha fatto la sorpresa. Poi, poi, attenzione, c'è Stefano Limentigato, che ha fatto la sorpresa. Andrea, Andrea a testa, questo non fai un cazzo la mattina e la sera, ma solo vedete i profitti dell'aiuto. Poi, ragazzi, grazie. Bravo, Filippo Bertonella. Limentigato, Sti! La moglie nel capo di Modo del Toro. 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 La moglie nel capo di Modo del Toro.